Allora, ragazzi venite qui, qui, venite qui, venite qui, qui, venite qui, cosa vi ha fatto? Mettiti lì quando parlo, vieni qui, dico, sentite se riesce a dare qualche racchettata in testa a qualcuno, non dovete, è vero che lui fa la ripresa, ma voi dovete guardare me, fai tu la lezione, Tato? Allora guarda me, va bene? Adesso, io quando fate questo lavoretto qui, vorrei che lo faceste un pochettino più ordinato, fate del pasticcio perché non fate le cose che vi fate, le cose ve le ripeto alla noia, sono sempre le stesse, dovete, primo, portare subito la racchetta dietro, con la racchetta dietro dovete cercarvi bene la palla con le gambe. Ragazzi, sul discorso gatti, è basato tutto il tennis, non si può giocare a tennis se si è male come gatti, ok? La palla deve essere sempre lo stesso, dal basso verso l'alto e dall'interno verso l'esterno, ok? Sempre uguale, la vostra palla deve essere mandata alla sinistra, non vado a dare al bambino, la palla deve essere data bene, cercare la palla e andare in su, la palla è in quell'angolo lì, anche se è fuori, la devi dare un atleta questa palla perché è impossibile, vai su questo? La palla deve essere mandata alla sinistra, non vado a dare al bambino, La palla deve essere mandata alla sinistra, non vado a dare al bambino, vai su questo? Grazie a tutti.